Ci sono arrivati 4.300 vaccini moderna. Abbiamo dato a disposizione come cabbie di regia regionale questi 4.300 vaccini di dedicarli esclusivamente ad odontoiatri e assistenti. Con il capogruppo Gianfranco Lopane e con il professor Lopalco abbiamo incontrato il presidente dell'ordine degli odontoiatri della provincia di Foggia per rassicurarli sulla immediata messa a disposizione dei vaccini per la loro categoria ma non soltanto per i medici ma anche per gli assistenti di studio sono già disponibili quindi è stato già dato indirizzo e questione meramente organizzativa quindi di qualche giorno e saranno vaccinati tutti quanti. Il vaccino è arrivato come cabbina di regia regionale abbiamo dato delle disposizioni precise abbiamo fornito a ciascuna ASL gli elenchi di tutti non solo gli odontoiati ma anche gli assistenti di studio che si sono già iscritti alla piattaforma e chiariranno diciamo la precedenza in questa in questa vaccinazione. Si può partire subito chiunque appartenente a queste categorie non si sia ancora prenotato ma voglia vaccinarsi è pregato comunque di prenotarsi andrà in coda rispetto a chi si è prenotato per tempo però sicuramente non gli sarà negata la vaccinazione. Dubbi chiariti? Sì sì assolutamente devo dire che è stato con l'assessore un incontro cordiale finalmente vediamo la luce rispetto a questa annosa questione che rischiava di diventare veramente senza fine quindi posso dire che oggi sono assolutamente fiducioso e come è assicurato l'assessore i vaccini sono arrivati e quindi finalmente arriverà questa vaccinazione per gli odontoiati penso che sia solo una questione spicciola di organizzazione quindi ringrazio l'assessore per questa direi spinta considerevole a questa vicenda.